. Uomini e donne news, anticipazioni, il nuovo tronista è Mariano Catanzaro Il nuovo tronista di uomini e donne è l'esuberante napoletano Mariano Catanzaro. Cancelletto Mariano Catanzaro, secondo quanto riportato dal sito Il Vicolo delle News, sarebbe il cancelletto nuovo tronista di uomini e donne. Il giovane napoletano è già noto al pubblico della trasmissione, in quanto ha ricoperto il ruolo di corteggiatore per ben due volte, durante i troni di Desiree e Popper e Valentina Dallari. Forse non tutti sanno che Mariano ha recitato anche nel film prodotto da Lori del Santo, The Lady 3. Dunque si rivelano infondate le voci che volevano sul trono Francesco Chiofalo, il personal trainer romano redute dal fine della storia con Selvaggia Roma. L'esuberante Mariano, video, porterà una valanga di risate e buon umore per il pubblico della fortunata trasmissione di Canale 5. Da un po' di tempo a questa parte, il trono classico non riesce ad eguagliare gli ascolti di quello over. Che la presenza di Catanzaro sul trono riesca ad equilibrare l'audience dei due troni. Mariano siederà accanto alle troniste Sara Affifella e Nilou Faradati e al tronista siciliano Nicolò Brigante. Il percorso di Mariano a uomini e donne. Mariano non ha avuto un percorso facile a uomini e donne. Presentatosi la prima volta come corteggiatore di Valentina Dallari, ha concluso in lacrime la sua partecipazione. La seconda volta, poi, è stato altrettanto sfortunato, in quanto ha corteggiato la popper che però, a metà percorso, ha deciso di abbandonare il trono senza scegliere nessuno, spezzando il cuore anche a Mattia Mariano, ora felicemente fidanzato con Vittoria De Ganello. Che il trono porti fortuna anche a Catanzaro, così come è stato per Mariano, ripresentatosi come tronista. Non resta che seguire i prossimi sviluppi della situazione, attendendo la scelta di Paolo Crivellin che sarà sostituito dall'esuberante partenopeo. La ripresa di Uomini e donne, video, è confermata per l'8 gennaio, per cui non bisogna attendere molto. Chissà quale corteggiatrice farà battere il cuore all'affascinante e simpatico Mariano che ha deciso di accantonare il passato sfortunato vissuto alla corte di Maria De Filippi, per intraprendere un percorso diverso, ma sempre finalizzato alla ricerca della donna della sua vita. In passato Mariano ha ringraziato pubblicamente la conduttrice per avergli fatto vivere una bella esperienza che l'ha fatto maturare, nonostante non sia uscito dal programma con una donna al suo fianco. Non ha tralasciato di ringraziare anche il pubblico per il suo incoraggiamento.